Nel video di oggi ti faccio vedere due schede della Universal Audio che sono secondo me super competitive sul mercato Sono la WadVolt 1 e la WadVolt 176, non 176 Adesso ti spiego perché Sono due schede entry level, io in particolare ho preso la 1 e la 176 Ma sono disponibili anche la 2 e la 276 o la 4 e la 476 Quello che cambia è il numero di entrate, di preamplificatori Sono rispettivamente una scheda da circa 120€ e una da circa 170 E voglio anche cercare di rispondere alla domanda se abbia senso preferirle o accontentarsi di una scheda così rispetto a una scheda così Come la TwinX che invece ne costa 1500€, quindi più di 10 volte questa Partiamo dalle caratteristiche di base, sia la 1 sia la 176 Arrivano con uscite bilanciate, porte MIDI, entrata MIC Instrument Abbiamo il tastino per il direct monitoring, quindi accendendolo e spegnendolo sentiremo o meno direttamente ciò che stiamo suonando in cuffia e o dall'output principale Ma la feature più interessante è ovviamente che abbiamo il selettore Vintage Questo selettore va a trasformare il nostro preamplificatore microfonico in un'emulazione del 610 Che tra l'altro è un preamp che abbiamo visto in questo video, proprio della WAD È un preamplificatore valvolare molto molto famoso Per la 1.76 il discorso è esattamente lo stesso Abbiamo sempre il tastino Vintage che ci permette di trasformare il nostro pre in un 610 Ma abbiamo anche un altro tastino che è la compressione 1.76 infatti sta per 1, un ingresso in questo caso 1.76 sta per 1.176 che è un compressore famosissimo della Universal Audio Possiamo innescare infatti in registrazione il nostro 1.176 interno Che potrà andare in modalità Vox, Guitar o Fast Quindi una compressione veloce, molto molto carino Questa è la mia voce attraverso il preamplificatore standard Quindi quello moderno della Volt 1 E questo invece è sempre il suono della mia voce Ma attraverso il preamplificatore Vintage Quindi sostanzialmente l'emulazione del 610 del valvolare di casa WAD Con il preamplificatore più moderno Leggermente meno saturazione in alto Una buona presenza in mezzo Zona di presenza piuttosto definita Mentre quando passo in Vintage Puoi sentire che viene sottolineata particolarmente la zona di presenza Abbiamo molte più armoniche in alto Molta più brillantezza E una zona di media e medio basse Leggermente meno definita Rispetto a quello che abbiamo invece appunto con il moderno Quindi senti che qui le basse essendoci meno altissime Sono un po' più definite Questa è la Volt 1.76 Quindi avremo appunto l'emulazione del compressore 11.76 L'11.76 è un compressore FET a transistor Quindi relativamente veloce, relativamente preciso Quando lo accendo Oltre a dare un boost di volume abbastanza sostanziale Guadagniamo ovviamente anche rumore di fondo Questo succede perché nelle varie modalità Cioè vocal, pensato appunto un po' più morbido per la voce Guitar, che in questo caso ha poco senso E fast, cioè molto più veloce Con attack molto più preciso Va a ridurre sostanzialmente come ogni compressore La dinamica del nostro segnale Portandosi appresso anche un bel po' di rumore di fondo Quindi diminuiamo la distanza che c'è tra il volume massimo e quello minimo Quindi il volume minimo e il volume di fondo Sarà più evidente Ma sarà anche più controllata la dinamica Di quello che cantiamo o suoniamo Avendo quindi poi in recording un segnale molto molto più bilanciato Costante Anche qui abbiamo il selettore vintage Oppure il preamplificatore moderno Questo è il suono del preamplificatore dell'Apollo Twin X In questo caso abbiamo un suono molto più presente in alto Anche se il preamplificatore non è in modalità vintage Non c'è proprio una modalità vintage Però potremmo caricare diverse emulazioni di preamplificatore all'interno del software E sentirle in tempo reale E anche poterle registrare ovviamente Ma di base il preamplificatore è senza niente sopra Così com'è È molto molto definito Ha una piacevole e leggera saturazione in alto E ha anche una presenza sulle medie e le medio basse Piuttosto definita L'enorme pro è che abbiamo preamplificatori Secondo me di qualità altissima E soprattutto alternativa tra preamp moderno WAD E preamp invece vintage Soprattutto sulla 1.76 abbiamo anche la compressione integrata Che è un elemento molto figo Speciale quando si registrano le voci È un elemento che può servire molto Ad avere in registrazione voci già controllate Già pari come dinamica D'altro canto è vero pure che le due arrivano Con qualche software gratis Do plug-in sparsi vari Ma non arrivano con tutta quella suite di plug-in Con cui invece arriva l'Apollo Oltretutto l'Apollo è Thunderbolt Mentre queste qui sono USB Questo significa che la connessione È molto molto più veloce e senza latenza Per un Apollo piuttosto che per una Volt Detto questo Se non devi gestire carichi di lavoro impressionanti Speciale perché abbiamo pochi ingressi Soprattutto col direct monitoring La latenza non è qualcosa di cui soffrirai Queste sono poi schede che non puoi espandere Nel senso che sull'Apollo c'è un'entrata ottica E volendo puoi collegare un preamplificatore Con altri 8 ingressi Le Volt sono pensate ovviamente Per situazioni un po' più piccoline Di home studio O comunque per produttori Che fanno tutto da soli Quindi la stragrande maggior parte di noi Di voi Su questa fascia di prezzo È difficile se non impossibile Trovare questo livello di qualità Dei preamplificatori E anche queste caratteristiche Molto interessanti a bordo Altri produttori concorrenti Come Focusrite o simili Su una fascia di prezzo 100-200 euro Offrono caratteristiche molto più base Ma dato anche che Ascoltandoli Hanno dei preamplificatori Veramente molto molto simili A quelli dell'Apollo Ti do anche un paio di suggerimenti Su come andare ad editare questa registrazione Per far somigliare questo preamplificatore A quello molto molto più costoso Dell'Apollo Sentiamo come suonano Questo è il suono del preamplificatore moderno Della WAD Volt 1 Questo è il suono del preamplificatore Della Apollo Twin X A colpo d'orecchio Per quanto sono molto simili Direi che quello dell'Apollo È un po' più brillante Questo è il suono del preamplificatore Questo è il suono del preamplificatore Invece quello della Volt È leggermente più medio-bassoso Vado ad aprire un equalizzatore Sulla Volt E vado a diminuire leggermente E le medio-basse Questo è il suono del preamplificatore Questo è il suono del preamplificatore Questo è il suono del preamplificatore Mi rimangono invece le risonanze E la maggiore presenza in alto Vado quindi a bustare leggermente La zona di presenza Questo è il suono del preamplificatore moderno Della WAD Volt 1 Questo è il suono del preamplificatore Della Apollo Twin X Ci siamo molto vicini L'altra caratteristica tipica dei preamp È l'introduzione di saturazione Oltre che la modifica della risposta in frequenza Cioè l'equalizzazione Vado ad aprirmi un Fresh Air Che è un saturatore gratuito Questo è il suono del preamplificatore moderno Della WAD Volt 1 Questo è il suono del preamplificatore Della Apollo Twin X È in realtà abbastanza semplice Quindi ottenere la recording che vogliamo Basta sapere cosa andare a toccare ovviamente Ringrazio i ragazzi di strumentimusicali.net Che mi hanno permesso di ordinarle dal loro sito Per fartele vedere Se ti è piaciuto il video Lascia un bel like e un commento E iscriviti al canale Se l'hai già fatto